E' vero, l'incontro non è andato bene, visto che la posizione dell'Abrioni in Roman Style è rimasta inalterata. Tuttavia, secondo i sindacati, contro la mobilità forzosa non è ancora detta l'ultima parola. Ieri la riunione in Confindustria appunto non ha avuto l'esito sperato, avendo confermato la volontà dell'azienda di licenziare 24 lavoratori delle sedi di Penne, Montebello e Civitella Casanova. In sostanza, la proprietà ha ribadito quanto contenuto nella nota di avvio della procedura e ha illustrato le ragioni che la inducono a ricorrere alla riduzione di personale e a ritenere impossibile il ricorso a strumenti contrattuali o di legge alternativi. Anche CGL, CISL e UIL hanno tenuto il punto, continuando a chiedere il ritiro della procedura di licenziamento collettivo attivata il 17 ottobre e sollecitando invece soluzioni condivise. Quello di ieri in Confindustria, su cui Labrioni non ha rilasciato alcuna dichiarazione, è stato solo il primo di una serie di incontri che si terranno secondo precise scadenze. Tempo ce n'è ancora, ma non così tanto. Diciamo che abbiamo tempo per trovare una soluzione perché la procedura durerà 75 giorni, quindi diciamo che l'orologio chiuderà la giornata al 31 dicembre del 2022. Entro quella data, tra sede sindacale e sede istituzionale, dobbiamo cercare di trovare degli strumenti alternativi. L'azienda invece vuole procedere con una mobilità forzata e questo è per noi impossibile da accettare. Dal momento in cui è entrato Caring, che ha acquistato Brioni, all'inizio c'era stata anche un po' di fiducia perché è un marchio importante, che ha delle capacità economiche importantissime, però purtroppo i frutti non li ha mai portati, forse perché questo gruppo non è abituato ad avere una produzione interna, perché altre marche come Gucci, Bottega Veneta e Vissaloran spesso hanno la logistica, hanno magari la progettazione, ma poi il resto danno lavoro ad altre aziende fasoniste. Poi ovviamente pandemia, guerra e tutto il resto non aiuta assolutamente, anche questo aspetto è da valutare. Noi speriamo sempre in un rilancio, ma questo rilancio ormai sono 12 anni che l'aspettiamo e non arriva, perché in questi 12 anni abbiamo perso 600 posti di lavoro e 600 posti di lavoro per la regione Abruzzo e in particolare per l'area Vestina è un bagno di sangue. L'azienda in questo periodo ha assunto lavoratori in posti specifici che magari dal nostro punto di vista ovviamente potrebbero essere riformate queste persone che oggi invece sono dichiarate in esubero.